Materna di Diogene, adesso ci spieghi sta cosa, vieni al microfono. Allora, Diogene era un filosofo cinico del IV secolo, che diceva che l'uomo dovrebbe... Non puoi partire da così lontano. No, diceva solo questo, che l'uomo dovrebbe imparare dall'animale per, come dire, per una questione di spontaneità, ecco. Ti sei spiegato benissimo. Il pezzo è inedito? Sì, inedito. È tuo. Si chiama io e te. Signori, con io e te, la Materna di Diogene, va bene così? Grazie. 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 Grazie a tutti.